La Terni Digital Week è un evento che abbiamo organizzato attraverso, grazie all'associazione Terni Digital, è un'associazione culturale, ed è un evento che ci sarà dal 27 al 29 di settembre. Si affronteranno diverse tematiche, dalla comunicazione digitale al marketing, fino alla sabersicurezza. Sono tantissimi gli ospiti che parteciperanno a questo evento, ospiti che vengono a tutto il territorio nazionale e ci sarà tra l'altro anche una giornata dedicata a delle start-up, che ci sarà sabato 28 settembre, a partire dalle 8 e 3 quarti in Camera di Commercio. È un evento che tra l'altro ha previsto anche la realizzazione di una digital school, che ci sarà appunto parallelamente agli eventi open, ed è una digital school dove ci sono delle docenze d'eccellenza, si affronteranno diverse tematiche, tra cui anche i social media, fino appunto anche alla comunicazione digitale. Ad oggi siamo arrivati a 30 iscritti, c'è stata una grande risposta da parte appunto della città e di tutti coloro che insomma sono interessati ai temi del digitale.